X-Strategy è una internet company, aiuta aziende e startup a raggiungere i propri obiettivi di business utilizzando internet, la tecnologia e un approccio lean. X-Strategy è il partner ideale per studiare la tua digital strategy, sviluppare sistemi web, creare app, rendere visibili i tuoi prodotti e i tuoi servizi attraverso i social media. Dall'esperienza di X-Strategy è nata GoExtra per trasformare l'idea in un business che funziona attraverso attività di mentoring che partono dalla definizione di un modello di business scalabile e sostenibile nel mercato. X-Strategy, spingiti oltre, verso luoghi inesplorati, ti aspetta un mare di opportunità. X-Strategy,